Hey, bentornati su Breaking Italy. Dopo il video pesantissimo di ieri, che ho strutturato in modo che rimanesse valido anche dopo il voto nel Parlamento Britannico, avvenuto ieri sera, andate a vedere il video se ve lo siete persi, ho pensato di aprire con una notizia più leggera, che è per ora fuori dai radar del giornalismo mainstream, ma ci arriverà lentamente. 10 euro che sarà Vice Italia a parlarne per prima. Per ora però bruciamo tutti in partenza e lo facciamo noi. Le mystery box. Nel novembre del 2017 ero conciato così male che non mi avrebbero fatto entrare nemmeno in un supermercato, ma per qualche ragione ho comunque pensato fosse una buona idea fare un video da presentare al paese. In questo video parlavo del fenomeno delle loot box, un nuovo modello di business che si è piuttosto velocemente affermato in una delle più ricche industrie di intrattenimento mondiale, quelle dei videogiochi. Per fare un riassunto velocissimo, negli ultimi anni le novità principali in quest'industria sono state tre. 1. Ci si è resi conto che le persone sono disposte a spendere denaro reale per accedere a cose virtuali. Più vite, la possibilità di saltare un livello difficile, potenziamenti, vantaggi a dispetto degli altri giocatori, ma anche elementi cosmetici per il proprio personaggio. Fortnite ci ha fatto 3 miliardi con questa cosa qui lo scorso anno, e sapete per forza cosa sia. Anche solo perché questo dicembre ci sono sprecati gli appelli di negozianti depressi che invece di vendere videogiochi si sono ritrovati a vendere gift card. E invitavano i genitori a non cedere troppo alle richieste dei pargoli, bruciando centinaia di euro per comprare cappelli virtuali. 2. Ci si è resi conto che in molti casi distribuire un gioco gratuitamente, Fortnite appunto, e guadagnare dalle successive cosiddette microtransazioni, che ormai non sono in molti casi più micro, facesse guadagnare di più, perché ampli la potenziale platea dei giocatori. Da qui, specie sul mercato mobile, la nascita dei videogiochi freemium. E infine, la parte controversa 3. Perché non prendere questa tendenza delle molte persone a voler accumulare cose inesistenti, e sommarla a un'altra tendenza che le persone hanno, cioè quella di tentare la fortuna per avere cose inesistenti a un prezzo inferiore del valore che arbitrariamente viene assegnato loro. E da lì nascono le lootbox, ovvero la versione 2.0 social super efficiente nel creare dipendenza, con tanto di grafichetta cattivante che ti mostra le scatole misteriose che vengono aperte, delle bustine di figurine sostanzialmente, che tu compri e non sai cosa c'è dentro. Ma dentro ben inteso c'è sempre qualcosa di digitale, che non puoi rivendere o scambiare, cosa che perlomeno con le figurine potevi fare. Ora, sta storia delle lootbox, come detto, l'abbiamo già trattata. Video brutto in descrizione. E dipendentemente da quello che era possibile trovare all'interno di queste scatole, la reazione della videogame community è stata varia, ma spesso critica. E alcune software house hanno cercato di ridimensionare la presenza di questo elemento nei propri videogiochi. Ma per un altro motivo soprattutto. Molte delle meccaniche che spingono le persone ad acquistare una scatola chiusa a un prezzo, che potenzialmente può contenere qualcosa di molto raro, come per dire contenere solo spazzatura o niente, è stato fatto a notare essere la base di quello che costituisce la meccanica primaria del gioco d'azzardo. E dove c'è gioco d'azzardo sapete chi arriva? Presto o tardi. Arrivano a metterci le zampe i governi, cosa che il mondo videoludico, con tutti i pregiudizi che si trascina con sé, ha interesse a evitare. Questo succede perché il problema principale è che questo mercato è popolato di bambini, di adolescenti, di minori in genere. Persone, così con le virgolette, che la società ha deciso, supportata da ampi riscontri scientifici, debbano essere tenute lontane da attività che possano creare dipendenza. Perché il rischio è che più facilmente divengano adulti tendenti al gioco compulsivo. Un esempio banale è quello degli alcolisti o dei tabagisti, che tendono, in stragrande maggioranza, a diventare tali se esposti a queste cose in tenera età. Quindi, no giovani a fare ste robe. Bene, il passo era breve, ma non scontato. Perché il quarto punto, al quale siamo arrivati e che ora analizziamo, fa uscire il tutto soltanto per metà dal mondo digitale, tramite un vettore che raggiunge molto di quel pubblico del quale parlavamo prima. gli influencers. Nelle scorse settimane, nella community americana di YouTube, è scoppiato il caso non delle loot box, ma delle mystery box, le scatole misteriose, quando è saltato fuori questo sito qui, Mystery Brand, che si definisce il primo sito al mondo nel quale è possibile aprire delle mystery box in tempo reale. È molto semplice. Ripescate quello che ci siamo detti sulle loot box nei videogiochi, ma con oggetti veri. Tu compri una di queste box, che però non esiste, è tutto digitale, compresa l'animazione che simula l'apertura della scatola con la taglierina, e hai la possibilità di vincere certe cose in base a quanto hai pagato la scatola. In questa, ad esempio, che costa 15 dollari, in teoria avrai la possibilità di vincere un computer da migliaia di euro, ma anche una cover per il telefono in silicone, che, se aveste mai passato il periodo dei grattevinci, nel quale prima o poi tutti passano, fa parte del diventare adulti, saprete essere con ultima probabilità esattamente quello che ci troverei dentro, la cover in silicone. Le box aumentano di prezzo, peraltro, sino a offrire cose folli, come la possibilità di vincere questa Ferrari. Ora, sia chiaro, questa cosa in Italia, sono sicuro a non essere legale, proprio perché gli oggetti in questione, sono comunque oggetti veri che l'azienda si impegna a spedirti dopo l'apertura della scatola. L'accusa è quella di essere ovviamente pure semplice gioco d'azzardo, che nel nostro paese è strettamente controllato. Ma il punto non è tanto quello. Se ne parla moltissimo per due ragioni. Una estera, ma una italiana. La ragione estera è che questo sito, come dicevamo, non è comparso dal nulla, ma è emerso dopo aver stretto degli accordi commerciali con grossissimi creator su YouTube. Pagati perché promuovessero il sito al loro pubblico giovane e facilmente influenzabile. Azione che è stata da molti considerata, se non in chiara violazione delle regole della piattaforma, come minimo poco etica. Stai vendendo l'illusione a dei ragazzini che con la spesa di 15 dollari possono avere oggetti di valore infinitamente superiore, senza che peraltro ci sia un controllo sulle effettive chance di vincita. Almeno quando è lo Stato a venderti il biglietto della lotteria, lì sei sicuro che un vincitore ci sarà, dopo tutto. Ma non sarai tu. Ragione italiana è invece che, se state per dire ma chi mai ci cascherebbe si interesserebbe a una cosa così, poi qui in Italia... Eh... non saprei. Una veloce ricerca su YouTube vi mostrerà, infatti, che anche in Italia questa cosa della mystery box ha preso piede. Va avanti da un bel po' di tempo in realtà. Non siamo ai livelli loschi del sito che finge di farti aprire le cose, decidendo algoritmicamente e arbitrariamente le percentuali di vittoria, ma online è pieno di ragazzini che aprono fisicamente scatole di cartone misteriose, sia che le abbiano comprate online, su siti come ebay se ne trovano moltissime ad esempio, specie in ambito abbigliamento, sia che, vabbè, facciano finta, si vede benissimo, scatole fatte in casa, tirano fuori cose che già avevano, giusto per cavalcare il trend e inseguire i click. Che arrivano, eh? Arrivano moltissimo. Perché vi ricordate come eravamo da bambini? L'emozione di aprire un regalo, ma anche di vedere un nostro amichetto aprire il suo per il suo compleanno. Si spiega tutto. Si spiegano i video di chi apre gli ufetti kinder, che vi assicuro perché l'ho visto, tengono i bambini incollati ai tablet. Fanno paura. Ora, non ho una morale da fare, sia chiaro, non sto facendo la morale, anzi, non sto neanche comparando le due cose. Noi stessi, tra i benefit per i sostenitori del Breaking Italy Club, abbiamo un programma di regali segreti e unici, che permettono di accedere a cose che però produciamo noi, le produciamo una volta e poi basta, e non venderemo mai più. Ma al netto del fatto che non si parla comunque di bambini in questo caso, tra questo comportamento, e il promuovere un sistema che ti invoglia a spendere soldi nella speranza di ricevere qualcosa che potresti non vincere mai, mi sembra ci sia una lieve differenza. Vorrei parlarne con voi. Ma c'è comunque da stare attenti, eh? Attenzione. Visto il successo di quel modello nel campo videoludico, dove non è evidentemente considerato gioco d'azzardo. Non sto dicendo che debba esserlo, le opinioni sono contrastanti, ma non sarebbe strano vedere aziende in Italia a cercare di promuoversi in modo simile tramite gli influencers italiani. Perlomeno, sino all'essere beccate, cosa che è, anzi, una strategia che mi sembra di vedere già in atto, a livello embrionale. Pareri? Bene, cos'altro succede nel bel paese? Innanzitutto si sta parlando, parecchio, di due articoli. Un articolo e un'intervista in realtà. L'articolo è quello del Corriere, dedicato alla storia di un bambino senza nome, di 14 anni, uno dei tanti che, con la storia di prima, ad esempio, si vorrebbero idealmente proteggere dai comportamenti predatori degli adulti. Questo bambino, però, è morto, è uno dei tanti naufraghi che ha perso la vita in mare nel tentativo di raggiungere le nostre coste, per ragioni politiche, sempre manopattugliate, lo sapete, da navi che del salvataggio hanno fatto la loro missione. La cosa che ha colpito tutti quanti è che cucita all'interno del giubbotto che ricopriva il corpo irriconoscibile del bambino che veniva dal Mali, sarebbe stata trovata dal medico legale che ha poi raccontato il tutto una pagella scolastica con i voti classici in fila, matematica, scienza, quelle robe lì. Un elemento che, ovviamente, da solo, ricostruisce tutta la storia di quello che altrimenti sarebbe stato un numero in mare, già dimenticato, già perduto. Quindi la speranza di una vita migliore, il desiderio di poter proseguire gli studi, magari, persino la pagella come prova che servisse a dimostrare la buona volontà del ragazzo arrivato in Europa e per questo protetta addirittura mettendola all'interno della cucitura del giubbotto. Ora, vi lascio l'articolo in descrizione come al solito e vorrei dire questo. Ho visto molti quasi arrabbiarsi nella prendere questa notizia, magari ringhiando che è ipocrita essere tristi, non possiamo essere tristi per tutti quanti, le persone che muoiono sono tante. Sì, è vero, ma non è quello il punto. Il punto della storia è dimostrare che le politiche che attuiamo hanno un prezzo reale e quel prezzo lo hanno pagato non solo tanti bambini, ma quel bambino la cui morte sarebbe stata forse evitabile. Al netto del fatto che sia chiaro non è obbligatorio provare emozioni nei confronti di questa cosa, perché non è che provare emozioni ci renda persone più o meno belle. L'obbligo è quello di agire, perché non accada più. A prescindere dalle emozioni che la storia può suscitare, è lì che diventiamo delle belle persone. Per il resto, dicevo, al netto di questa roba qui, per le persone che si sentono stizzite della risposta emotiva che alcuni hanno, io ad esempio ne ho avuto un sacco leggendo della storia di questo bambino, anche la rabbia è una risposta emotiva, ricordatevelo. E la cosa più interessante non è mai vedere dove questa venga direzionata, che quello è facile da capire, ma da dove venga generata. perché secondo me scavando un po' in questa rabbia potrebbero saltare fuori cose interessanti. Ah, per quanto riguarda i migranti, oggi abbiamo anche Lorella Cuccarini che si butta nell'arena in un'intervista nella quale si dichiara vicino a Salvini e ha per questo ricevuto il suo applauso con tanto di manine che applaudono. Ora, due cosine, con tanto di bacione a Lorella Cuccarini e babà alla crema per il ministro dell'interno. Uno, interessante come ormai a nessuno sembra interessare che Salvini usi due pesi e due misure per praticamente ogni cosa ma a distanza di giorni proprio a Baglioni che ne aveva criticato le politiche ha detto di tutto descrivendolo fondamentalmente come un cretino e invitandolo a lasciare che ad occuparsi di queste cose fossero testuali parole le persone con diritto e dovere di farlo. Pensa un po'. Io ero convinto parlassi di se stesso e invece si riferiva a Lorella Cuccarini visto che sono pretenuto. La seconda cosa è questa qui ma è proprio un problema mio è una roba mia. Le parole che Salvini descrive come di buonsenso della presentatrice a parte sta cosa di intestarsi sempre il volere degli italiani che vabbè saranno anche sacrossante facciamo finta che siano giuste al 100% ma questo non ne esclude la connotazione politica a destra. Le politiche della Lega sono di destra e la ragione stessa per la quale i termini destra e sinistra esistono sta a sottolineare che ci sono più modi per affrontare un singolo problema. Questa sorta di terza via del buonsenso quella che non è né di destra né di sinistra è sempre stata ed è tuttora un modo di fare cose con una certa connotazione politica cercando di non far sentire in colpa e quindi prendendo in giro chi quelle cose le condivida pur se non fanno parte di quello che è sempre stato il suo orientamento politico di chi si è poi ritrovato quindi a sostenere Lega per una ragione o per l'altra. Quindi sarà anche sacrosanto ma criminalizzare l'immigrazione e dipingerla come l'invasione del diverso è nel contesto italiano una politica molto di destra. In ultimo eccolo qui questo è il presidente del Brasile Bolsonaro che in questo momento sta facendo una battuta non sto scherzando che probabilmente passerà alla storia. forse quanto la sua tendenza a fare le pistole con le mani seriamente lo fa ovunque l'avrete visto davvero davvero pure in ospedale lo fa anche con i bambini quella penna è l'arma ha detto Bolsonaro che il neopresidente ha deciso di utilizzare per rendere più facile ai cittadini l'accesso alle armi da fuoco in un contesto nel quale la legge perlomeno secondo i sostenitori del presidente si sarebbe resa necessaria a causa della molta criminalità presente nel paese che è arrivata ai vertiginosi picchi di quasi 64.000 morti violente ogni anno la decisione arriva peraltro facendo un'iversione a U rispetto al passato visto che nel 2003 ci fu una stretta alle regolamentazioni per il possesso civile di armi e a scontrarsi rimangono quindi le persone che ritengono che il disarmo non abbia funzionato e l'unica cosa con la quale si può rispondere al fuoco sia altro fuoco e quelle che sono contrarie e che promuovono i dati a sostegno della tesi che più armi in circolazione non facciano altro che aumentare i livelli di insicurezza e il numero di morti violente sarà interessante vedere cosa succederà in Italia Salvini che è in campagna elettorale sta girando l'Italia in questi giorni era persino all'estero ad Alghero dove si è peraltro messo la divisa da Barraccello perché non lo so ha comunque promosso nuovamente la legge sulla difesa ancora più legittima che dovrebbe arrivare a febbraio a quel punto sarà interessante vedere se questo funzionerà da stimolo per la popolazione italiana ad armarsi perché come al solito le politiche del governo hanno due facce da una parte c'è l'aspetto prettamente politico delle leggi il loro funzionamento della loro efficacia e in questo caso non è sicuro a cambiare a granché in realtà a livello procedurale ma poi c'è l'aspetto mediatico diciamo che può spingere le persone a sentirsi più sicure o autorizzate a mettere in campo certi comportamenti come l'acquisto di armi perché sono spinte dall'alto a farlo da una figura autorevole sarà interessante esaminare entrambi i casi in futuro quindi tanto io non vado da nessuna parte e questo era tutto per oggi grazie per aver guardato ho dimenticato una luce sono senza la luce blu molto brutto oggi dovrebbe essere il giorno del reddito di cittadinanza peraltro ma non faccio in tempo a parlarne mi sa che rimandiamo a domani alle 19 per la live o direttamente a lunedì nel frattempo fate i bravi mi raccomando lasciate un commento qui sotto mandati un bel bacione come dice il ministro degli interni no? bacioni a diretta e riccardo alfiere e regina di oggi dalla germania e niente anche oggi non facciamo in tempo per la skin di fortnite sono molto dispiaciuto anche quello lo rinviamo domani